Il Vangelo ci presenta la guarigione di un paralitico. I portatori portano la varella davanti alla casa, però c'è tanta folla perché Gesù dentro la casa sta tenendo una discussione, una catechesi, uno stare insieme e quindi non si sa come fare per portare l'ammalato davanti a Gesù. Allora corrono a un sotterfugio, cioè sfruttano la costruzione delle case di quel tempo, delle canne e sopra un po' di terriccio e quindi salgono su questo tetto e scoprono buona parte del tetto. Naturalmente sulla agenda che era sotto cadrà un po' di polvere, di calcinaccio, però Gesù sta lì, se la prende anche lui un po' di polvere in testa è pazienza. Gesù quando vede questa scena che davanti a lui si trova di fronte a questo paralitico dice grande è la tua fede, ti sono rimessi i tuoi peccati. Io penso, penso che quel poveretto di ammalato avrà detto dentro di sé ho fatto tanto per arrivare davanti a Gesù di Nazareth, ho chiamato questi portatori, hanno scoperchiato il tetto e ha detto ti sono rimessi i tuoi peccati. Io voglio la guarigione, per i peccati c'è sempre tempo e questo ragionamento non so se l'abbia fatto o l'ha ammalato, forse no, però è il nostro ragionamento. Certo Gesù compie il miracolo poi, prendi il tuo lettuccio e va via, compie il miracolo. Perché Gesù si è comportato in questo modo perché voleva far notare molto bene con la scena che non è solo la guarigione fisica che lui porta ma è principalmente la guarigione dell'anima, toglie i peccati, è venuto sulla terra a togliere i peccati del mondo, a fare sì che tra Dio e l'uomo ritorni la pace, la serenità, la concordia. Ecco lo scopo per cui Gesù quasi ha tergivissato, non agito subito per la guarigione. La guarigione è scaturita come un premio della sua fede. Dio ci dà la possibilità di ricominciare una vita nuova, ci dà continuamente il perdone dei peccati per darci una vita nuova. È sufficiente presentarsi al confessore e dire padre sono un malato, guariscimi. È il confessore che agisce in nome di Cristo dall'assoluzione dei peccati, cioè dà il perdone dei peccati e in quel cuore, in quella persona ritorna la gioia e la serenità. Viene da dire peccato che noi ci riflettiamo poco. Certo se andare davanti al confessionale per l'accusa dei peccati ci fosse subito la guarigione della polmonite, la guarigione da un tumore o da altre situazioni fisiche o morali o ci sarebbe la folla dietro il confessionale. Padre Pio, confessore, delle sfuriate che Padre Pio teneva e dalle correzioni fatte alzando un po' la voce, il Padre fa presente al suo direttore spirituale che tutto è frutto di stanchezza, cioè tutta la giornata chiuso nel confessionale mi sento come un prigioniero. Di fronte a colpe enormi mi sento incapace di proseguire. E poi Padre Pio è impegnato a salvare le anime, usava le maniere forti e le maniere dolci. Diceva in sostanza ti ho generato nell'amore e nel dolore altre volte scagurato hai venduto l'anima al diavolo e sciagurata vatti a vestire. Padre Pio non permettendo ad altri sacerdoti di imitarlo su questo punto abbastanza forte e diciamo fuori stile della confessione diceva non to' il dolce a chi ha bisogno del purgante.